In quest'ultimo anno, a causa dell'emergenza pandemica, enormi sacrifici sono stati fatti, il mondo intero si è piegato su se stesso, in modo particolare tutte le attività culturali e sportive, come aziende e commercianti costretti dai vari DPCM a chiudere, inizialmente per limitare la diffusione del virus stesso, e ora purtroppo a chiudere definitivamente per le perdite economiche mai realisticamente risarcite. Siamo in una crisi economica e sociale che sarà lunga da digerire. In quest'ultimo periodo, scrive Franco Mano, si stanno vanificando i tanti sacrifici fin qui compiuti e i pochi risultati positivi raggiunti, sia per la grande confusione che si sta generando per la campagna di vaccinazione, sia per le scelte delle restrizioni da applicare. Speriamo di superare al più presto questo incubo. Siamo ritornati al punto di partenza, al marzo 2020, ospedali al collasso, i reparti di terapia intensiva follati, gli operatori sanitari ritornano ad essere gli angeli delle corsie, dottori e infermieri stremati dai turni interminabili. L'unica cosa che è realmente cambiata è la compagine governativa e l'assenza delle dirette tv dell'ex premier Conte. Si avverte quindi il vuoto politico istituzionale come non mai, una programmazione vera di investimenti fatta direttamente sui comuni, sulle attività produttive, sulla sanità e sulla scuola per farsi trovare pronti il giorno in cui tutto finirà. Quindi non esiste nulla di tutto ciò e se esiste non l'avvertiamo, per questo ci sentiamo ancora più colpiti e abbandonati a noi stessi. Ma nello stesso tempo, continua l'imprenditore franco mano, questa realtà ci impone di fare comunque delle scelte per continuare a sperare che tutto ciò presto finirà. Un governo così pieno di contraddizioni politiche non si era mai visto. L'incapacità dei partiti e della politica di guidare il Paese fuori da questa emergenza è palese. Le regioni come la Calabria hanno difficoltà a gestire la campagna di vaccinazione. L'incapacità politica dell'attuale Presidente non aiuta affatto una terra come la Calabria piena di ritardi strutturali e se poi aggiungiamo il loro distacco dai territori e la loro incapacità di amministrare, il quadro è veramente molto desolante. Per rimanere invece nella nostra città assistiamo a questo immobilismo creato dalle divisioni interne laceranti dell'amministrazione voce. Aggiungiamo la divisione dei partiti, per lo più in gruppetti di persone. Fa crescere questo dramma in modo esponenziale. Infatti non a caso tutti i partiti sono quasi commissariati. I coordinatori di alcune forze politiche dalla sera alla mattina vengono azzerati. Naturalmente questo servirà solo a ridurre sempre più gli spazi di democrazia e di autonomia sulle future scelte da compiere che in concomitanza con le prossime elezioni regionali ci lasciano intendere che le sorti del nostro territorio verranno decise al di fuori dei confini della nostra città.